va bene è stata una galoppata come vedi parlo un sacco sicuramente mi sarò dimenticato delle cose fondamentali però va bene no però è stato è stato bello è stato bello anche perché è davvero così davvero una chiacchierata così è un altro paio di maniche perché è un pochino più informale è un pochino più rilassato e forse anche un pochino più fruibile secondo me perché almeno per farci con qualcuno e ricevi delle risposte perché molte davvero di queste domande mi sono arrivate direttamente a me allora le giro e così una volta per tutte avete continuamente questa domanda qui c'è la risposta certo sì ma anche perché allora è complesso puoi immaginare che rispetto all'osservatorio 150 persone è un macello io non ho dato i numeri dei progetti che che arrivano per cui normalmente nell'index confluiscono 150 progetti a fronte di una selezione di una di una candidatura che è spontanea e quindi è decisamente numerosa ne arrivano esatto ne arrivano una quantità infinita però di fatto quindi è una macchina complessa è una macchina che solleva sicuramente degli interessi che possono essere anche contrastanti è una macchina che genera grande felicità qualche scontentezza perché ma io stessa candido delle volte si è menzionato delle volte no comunque quando non ti scelgono l'amaro in bocca c'è per per tutti perché io non sono dell'idea che l'importante è partecipare l'importante è vincere vincere esatto dopodiché non sempre si può vincere quindi uno deve imparare a fare i conti col col fallimento e continuare a provarci però caspita quando non vince un po' male ci rimane no quindi questo guarda io io conosco cioè io ho fatto sono stato un docente della figlia di un'azienda che si chiama Sines il padre ok sono anni lui sta impazzendo sono anni che ci prova ci prova ci prova e gli faccio io io stesso gli ho detto guarda la il compasso d'oro è l'unico premio a livello mondiale secondo me che è pulito cioè se tu vinci è perché meritavi di vincere non è davvero a me dispiace dire questa cosa ma il redotto e word hai sì hai più probabilità di vincere caspita però è un investimento sicuramente più importante e centinaia di persone in quell'anno vincono quindi sì bello hai vinto ma come centinaia di altre persone e invece qui è un numero limitato se vinci è perché veramente il progetto che hai fatto era davvero qualcosa di importante che poteva davvero cambiare le cose ma guarda ti racconto c'è un'azienda che fa le gelatiere cioè i banchi per che sono destinati alle gelatiere quindi anche la ifi quindi un'azienda del centro italia quindi ha vinto il compasso d'oro con questo progetto disegnato da Sadler per cui Sadler invece ha deciso di fare cosa di far convergere le due cose quindi c'è il pozzetto c'è il coperchio per ogni contenitore comprerò il prodotto a vista ok quindi di fatto questa che di nuovo sembra un'intuizione banale però rende mantiene il prodotto visibile quindi tu vedi il colore vedi la consistenza però è protetto esattamente come i pozzetti ok quelli tondi con per cui questo prodotto proprio perché è stato rivoluzionario poi dal punto di vista tecnico comunque ci sono tutta una serie di accortezze per far sì che questa cosa funzioni benissimo il presidente ce l'ha sul biglietto da visita il biglietto da visita ha messo il compasso d'oro tanto è il in qualche modo no la la felicità ma anche il valore in termini di reputazione di questa cosa sul compasso d'oro cioè sul biglietto da visita c'è il compasso d'oro per cui va bene ma è tutto molto bello quindi vieni e partecipa no quello sì quello sì poi guarda ti dico io io sono io adesso vivo a bologna ma sono originario di un paese che è lumezzane in provincia di breccia io sono proprio cresciuto con la progettazione miei nonni avevano un'azienda di casalinghi quindi il mondo dei prodotti è sempre veramente stato qualcosa di incredibile il problema di lumezzane è che non sono stati mai in grado di pubblicizzarsi nel modo corretto ti faccio un esempio la fra bosch era un'azienda che fece negli anni 90 la cappuccera che aveva la cappuccina quella che per fare il cappuccino in casa non l'aveva brevettato e cioè e non l'ha depositato non l'ha presentato alla di niente non ha fatto niente praticamente il mondo gliel'ha copiato e la fra mosca la fra bosch è un'azienda veramente importante ha chiuso due o tre anni fa così come molte altre aziende che vedono vedono ancora il fatto di non utilizzare siti internet o non utilizzare determinati strumenti c'è un'azienda di progettazione a lumezzane che ha fatto gli stampi alla tesla cioè gli stampi la tesla è venuta e ha chiesto loro gli stampi perché non troppo difficile da fare e loro non sono in grado di pubblicizzarsi per far vedere queste cose al di fuori di lumezzane ed è incredibile questa cosa perché hanno io ho collaborato con diverse aziende anche di lumezzane come casa bugatti o al di fuori o colombo design ho fatto delle dei pomoli per colombo non riescono non riescono la maniglia di cui parlavo prima l'ha fatta l'ho fatta con becchetti ball che è l'azienda di maniglie non la conosco è l'azienda più antica al mondo di maniglie è targata 1882 ma dai ed è di lumezzane non si conosce perché loro non hanno mai pubblicizzato nulla un loro cliente ad esempio è stato il vaticano io ho visto la fattura fatta al vaticano targata tipo 1890 e non riescono a pubblicizzarsi la cosa che è successa adesso è che il padre diciamo ha dato in mano ai figli che hanno tra i 25 e i 30 anni l'idea di dire ok dobbiamo fare uscire dei prodotti nuovi dobbiamo curare la comunicazione io non sono in grado di farlo perché non ho gli strumenti provateci voi e quindi è uscito due settimane fa abbiamo fatto proprio cinque maniglie che partono dalla maniglia classica la maniglia moderna prendono un po' tutti gli stili e l'abbiamo fatto l'inizio con i rappresentanti i rappresentanti erano scioccati perché perché la prima domanda è stata ok questi video sono fruibili da qualche parte sì su youtube sono tutti video divisi sono in italiano sono in inglese siamo pronti con tutto quindi le maniglie sono già pronte per la sfidizione tutto pronto a un certo punto i rappresentanti sono fermati ha detto non c'è mai capitato con voi non è mai successa questa cosa perché loro a livello comunicativo erano pari a zero e quindi questa è una cosa davvero soprattutto lumezzanese di progettare e non comunicare caspita certo allora lì nel nel bresciano rispetto agli stampi dovrebbe essere patrimonio dell'unesco nel senso che gli addetti ai lavori lo sanno nel senso che gli stampi che vengono fatti lì da nessuna parte nel mondo non so come dire di fatto non spesso succede ma pensa anche tutta la brianza mio marito è di di mida penso che sia uno dei pochi di mida che non c'entra niente con col design e nulla ok però di nuovo io mi ricordo quando eravamo fidanzati quindi ero ancora nell'altra vita con il mondo della della finanza e noi ci siamo conosciuti in in jp morgan di fatto diceva beh mi porterà in centro mi porterà in io conoscevo la brianza come per me il designer una passione quindi era un hobby che ti posso dire quindi conoscevo le aziende conoscevo i nomi sicuramente più importanti non c'è il centro di mida ma non c'è niente che in qualche modo faccia capire che porca misera lì e nei dintorni ci sono tutta una serie di aziende importantissime per cui è proprio una matrice cioè io parlavo con con messina e dicevo porca misera bisogna fare qualcosa per per meda perché tra flu cassina e quant'altro tutti lì non hanno mai fatto niente e per gli stranieri cioè quando andavo a pechino se tu devi attraversare pechino da un lì ci sono gli anelli quindi quando sei sul nono anello si andare da una parte all'altra è come andare da da milano a bologna anche di più per cui capisci che milano lumezzane piuttosto che milano dico milano perché milano è conosciuta a livello internazionale rispetto al design milano lumezzano milano c'è altri luoghi o la brianza è solitamente un tiro di schioppo per gli stranieri è una dimensione pensa a quanto è stesa a occhio che noi siamo ancora abbiamo una dimensione medievale dal punto di vista dei territori no ci sembrano delle distanze siderali e non non riusciamo a sviluppare questa quindi non come dicevi tu non comunichiamo no esatto esatto e questa è una cosa davvero che a me fa davvero impazzire impazzire poi le dinamiche a lumezzane cioè io le riunioni di lavoro le faccio alle sette e mezza del mattino perché loro dopo devono accendere i forni cioè in ufficio questo dico ma caspita ma è così vacanze e niente quindi sempre lavorare ora ora così lumezzano è questo va bene dai allora è stato fantastico grazie mille io adesso divido tutte le domande poi te le mando te le mando in email oppure le metto le un drive sì o un drive oppure cosa faccio youtube ha la possibilità di mettere anche privati video privati ti mando i link dei video privati così almeno volendoli poi passare anche per una revisione vuoi qualsiasi altra cosa e basta magari aggiungo la parte in cui parliamo del telefono grillo aggiungo il telefono grillo ok sì così come se voglia e tempo guarda anche i link perché poi allora siccome adi è un'associazione riconosciuta quindi tutta una serie di cose noi dobbiamo renderle pubbliche di l'atto costitutivo è pubblico cioè non devi necessariamente essere socio no quindi l'immagine del perché lì ci cacchio ci sono i nomi quando uno legge castelli per essuti zanuso rosselli cioè brividi per cui link o immagini vedi tu in modo che poi uno possa andare magari metto le immagini esatto magari metto l'immagine grande allora lì la trovo sempre sul sito però quella giusto la trovo sul sito perfetto è un giro sul sul sito allora il link è più comodo per gli approfondimenti adesso non so come sono fatti gli altri cioè rispetto al compasso d'oro perché poi uno ne può parlare in astratto ma di fatto i compassi d'oro se tu guardi nel nel sito dell'adi sotto compasso d'oro uno può vedere quelli che hanno vinto tutti certo sì 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 per cui e quindi rappresentarli con le immagini è anche un casino ma poi diventa io forse è un'impostazione quindi ho cercato di non citare nessuno perché se ne citi uno sì devi citare nevo dietro esatto era un casino allo stesso modo siccome tutti quelli che hanno vinto il compasso d'oro per aver vinto un compasso d'oro vuol dire che sono progetti fantastici e siccome sono pochi alla fine uno si può fare un giro e se li guarda quello sì 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 Grazie a tutti.